Ancora una canzone per te, che scacci la malinconia Balla una baciata con me, e la musica riprenderà Ancora una canzone per te, lasciati portare via Amore vedrai quanta musica stasera nel tuo cuore ascolterai Buonasera a tutti, di nuovo benvenuti ad Ancora una canzone Grazie davvero di cuore, come sempre, per i tanti messaggi, i tanti complimenti che ci arrivano Ci fa piacere, non solo a noi, ma anche a tutti, a tutto lo staff che lavora qui ad Ancora una canzone Oggi con me intanto la bella Ilenia Romano Buonasera, ciao Danilo Mi fa piacere che sei qua, e presentiamo comunque anche la tua collega Katia In particolare il vostro capo, il maestro Luca Canali Quindi grande musica, grande spettacolo stasera Anche Tiana Cris, che dopo l'ascolteremo come sempre Inoltre ci sono i ballerini, sempre della scuola Oro Dance di Albese con Cassano Erba e Galbiate, ringraziamo sempre i titolari, Luisa e Marco, di questa bella scuola Allora, io direi di far accomodare la tua collega, prego Come no? La chiamiamo? Ma la devi chiamare Katia Govi Eccola qua, vieni Katia Eccola qua, bellissima come sempre E gli lasciamo il centro del palco per presentare Balla con i Lupi Questa bellissima cumbia Signori Katia, orchestra Luca Canali Vai! Eccola qua, bellissima Grazie a tutti 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 Ti faccio due domandine veloci Così, così subito Quanto tempo è che sei con Luca? Sono esattamente sette anni E l'orchestra di Luca Canali da quanto tempo esiste? Eh, da anni Ma più o meno Da una quarantina Porco cani cani a deficiency bel brano famosissimo che conoscono tutti quindi a casa è da cantare completamente rearrangiato e ve lo faccio ascoltare perfetto che dici parli proprio con l'accento di parma che sarà ilenia romano poi facciamo vedere anche il tuo nuovo cd va bene prego vai che si vola si balla vai paese mio che stai sulla collina disteso come un vecchio addormentato la noia l'abbandono e il niente è solo la tua malattia paese mio ti lascio e vado via che sarà che sarà che sarà della mia vita chi lo sa so far tutto forse niente da domani si vedrà sarà sarà quel che sarà amore mio ti bacio sulla bocca che tu la ponte del mio primo amore ti do l'appuntamento come quando non lo so ma so soltanto che ritornerò che sarà che sarà che sarà che sarà della mia vita chi lo sa come porto la chitarra e se la notte piangerò una media di paese suonerò che mi amici mi sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me che cazzo perché stavo bene in loro compagnia ma tutto passa tutto se ne va che sarà che sarà che sarà che sarà che sarà che sarà della mia vita chi lo sa so far tutto forse niente da domani si vedrà sarà sarà quel che sarà quel che sarà quel che sarà che sarà che sarà che sarà che sarà che sarà della mia vita chi lo sa so far tutto forse niente da domani si vedrà sarà sarà che sarà quel che sarà che sarà che sarà che sarà che sarà quel che sarà che sarà che sarà che sarà che sarà quel che sarà che sarà che sarà che sarà Brava Ilenia, brava Ilenia, intanto ringraziamo anche i ballerini, Mattia e Angelica, dopo vi presentiamo alla grande, brava. Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Lo sa, lo sai te, però facciamo vedere questo bel cd. Faricontro, si intitola, 5 brani completamente inedite e 5 riarrangiati. Perfetto, quindi questo bel cd lo potete trovare nelle serate dell'orchestra di Luca Canali con la voce di Ilenia Romano. Ilenia, sei capace di lanciare la pubblicità? Dai fammi vedere come fai. Faccio io? Fallo tu. Non cambiate canale, mi raccomando. Quindi? Vi aspettiamo dopo la pubblicità. Ancora una canzone, a dopo. Ancora una canzone per te, stasera nel tuo cuore ascolterai. Oh, bentornati di nuovo, ancora una canzone, però ha ragione il mio amico Matteo. Aspetta, Tiana, perché ti faccio cantare, però mi dai un secondo microfono perché io gliel'ho portato via alla Katia. Ma c'è un motivo perché me l'hai portato via, Danilo? Perché non taccio un secondo. È vero, parli sempre. Brava, brava, brava. Allora, vuoi dire dove siete invece voi all'ultimo dell'anno? No, l'ultimo dell'anno, sì. Poi lo confermerà lui perché siamo tutti insieme. Certo, lo confermerà anche lui, certo. Siamo alla sala 2000 di Campagnola di Reggio Emilia. Perfetto. Noi siamo nella zona Emilia. E certo, voi arrivate da? Esattamente. Da Parma. Da Parma, perfetto. Quindi mi raccomando andare a ballare sempre e dappertutto, anche con l'orchestra di Luca Canali, che ci sono due belle ragazze, vi divertite di sicuro. Beh, diciamo che ci proviamo, dai. Ma certo, no, no. Di far divertire la gente. Sicuramente. Brava. Allora, invece adesso... Me lo chiedi già via. Sì, perché devo far cantare questa bella ragazza, Tiana Criss. Eccola qua. Ciao Tiana, noi ci conosciamo da un po', eh. Eh sì. Mi fa piacere averti qua. Anche siamo lavorati insieme. Sì, brava, mi ricordo. Sempre un piacere vedere. Quindi, ti faccio cantare questo brano che si chiama Fernando, che lo cantavano? Abba. Eh, va bene. Quindi, signori, eccola qua. Tiana Criss con Fernando. Vai! Grazie. Sì, brava, mi ricordo. Ma certo, fa per me. Era bello, sai, Fernando. Ogni ora, ogni minuto, quell'estate c'è a pavore. Io fremmevo al mio Fernando, ma un sospetto lentamente insinzionuava dentro me, eri fin troppo educato, non sembravi più che l'uomo che sognai. C'era proprio qualche cosa in te che io cercai, Fernando, ti tenevo stretto, stretto a me, e intanto tu, Fernando, di parlare di filosofia la pagherai. Se dovessi farla ancora poi, ti amazzerei, Fernando. Se dovessi farla ancora poi, ti amazzerei, Fernando. Alto e forte il mio Fernando, sono anni che di qui non passano tipo come te. Urla ancora la mia rabbia, quando ho aperto quella porta un'altra donna era con te, e mi sussurravi tutto quello che volevi tu dicessi a me. C'era proprio qualche cosa in te che io cercai, Fernando, ti tenevo stretto, stretto a me, e intanto tu, Fernando, mi parlavi di filosofia la pagherai. Se dovessi farla ancora poi, ti amazzerei, Fernando, c'era proprio qualche cosa in te che io cercai, Fernando, ti tenevo stretto, stretto a me, e intanto tu, Fernando, mi parlavi di filosofia la pagherai. Se dovessi farla ancora poi, ti amazzerei, Fernando. Se dovessi farla ancora poi, ti amazzerei, Fernando. Brava Tiana, brava Fernando, brava. Tu, l'ultimo dell'anno, ti ricordi dove sei o vuoi che lo dica io? Io lo so, perché l'ho visto, però se vuoi, dillo dove sei. Io so che sono gli Limbiati. Parla dentro il microfono, brava. Vicino a Limbiati, che si chiama Comedia Club. Comedia Club, è vicino proprio a Limbiati, nel parco. Quindi andate a ballare, bellissimo. Gran, bell'ultimo dell'anno, sicuramente insieme a Tiana. Va bene? Grazie, grazie. Grazie, grazie. E adesso, ragazzi, perché facciamo non solo musica, come abbiamo sempre detto, ma anche la tradizione. Non può mancare un bel waltzer di quelli tradizionali. E chiamo qua con me il maestro Luca Canali. Vieni, Luca. Vieni, vieni. Tanto ti lascio il microfono. Grazie davvero per aver accettato l'invito. Ciao, Danilo. Grazie a tutti. Un saluto a tutti gli amici che ci guardano da casa. E grazie dell'ospitalità, naturalmente. Ma sei un grande. E voglio salutare anche tutto lo staff che ci sta dietro la produzione di questo nuovo programma. È il nuovo, è la terza volta. È il terzo lunedì, ma sta andando veramente bene. E poi è stato un piacere che hai accettato questo invito, perché davvero ci tenevo che arrivavi col tuo sax a portare un po' di liscio, un po' di tradizione. Sì, perché ci hai conosciuto alcuni dei miei solisti dell'orchestra. Le tue cantanti, le tue ragazze. Naturalmente, poi c'è anche il fisomonicista, c'è tutto il resto dell'orchestra. E quindi, eh? Che portiamo avanti. Mi fa piacere. Ormai 40 anni. Poco canna. Perché dall'82 al 2022, proprio quest'anno, abbiamo festeggiato 40 anni di attività. E davvero mi fa piacere. Sei bravissimo. Allora, come si suona, avanti tutta. Avanti tutta. Luca, allora, ti rubo il microfono, ti lascio. Arriva Battagliero. Vuoi che prendo la fisarmonica insieme? Proviamo? Ok, quando c'è la fisarmonica, io intanto l'abbraccio, ma ti faccio partire. Signori Battagliero, Luca Canali, vai! Signori Battagliero, Luca Canali, vai! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 in questa notte. a tutti. a tutti. in questa notte. in questa notte. a tutti. 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 a tutti.